Il bullismo e le dinamiche di violenza che si verificano ad Arezzo con una puntuale e preoccupante crescita portano tutti noi ad una riflessione obbligata. Inizia così un comunicato stampa di Futuro Aretino sull'aggressione subita dalla bambina di 11 anni al parcheggio Cadorna ad Arezzo sabato scorso. Chiediamo che nella nostra città i servizi sociali scrivono siano una prevenzione e cessino di essere un rimedio in extremis. Attendiamo come sempre che l'amministrazione realizzi quanto sia importante ed imprescindibile educare in ugual modo tutte le famiglie perché non ci siano figli sbagliati o meno sbagliati. Al patto educativo, sottolinea l'associazione Aretina, partecipano anche Croce Rossa, FIDAPA, CISL, Scuola 4 Novembre e Affidar. Tutti insieme chiedono a gran voce un consiglio comunale aperto dove le preoccupazioni degli aretini possano essere messe sul tavolo per fare fronte unito alle problematiche che appartengono a tutti. Sono tutti invitati, scrive Futuro Aretino, a prendere parte alla voglia di azione e reazione che muove la nostra associazione. Un grande abbraccio e un invito a parlarne insieme va alla ragazza aggredita e alla sua famiglia.